Ma questi sono prodotti probabilmente in scadenza o che hanno un danno, anche un lieve danno alla confezione. Queste sono tutte foglie di insalata, qua fino di mandarini, tutto formaggio brie che è scaduto ieri. E' scaduto tutto ieri, viene buttato così integro liquido nel cassonezzo dei rifiuti indifferenzieri. Caspita, potremmo fare del formaggio? E ce n'è ancora. Con così tanti di cifre. Sì, no, 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 questa raffa è bellissima. 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 Sì, no, no, no.